Tu 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 Hello Kitty vive qua giù Fiocco rosso e naso all'insù Al villaggio vieni anche tu Vieni anche tu Hello Kitty dolce tu sei Vieni qui a cantare con noi Mamma mia quanto sono, sono trash E me ne rendo pure conto Sigla! Orasi family and welcome back to my channel Ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo e super pucciosissimo video Oh my god è sempre una guerriera a sailor con questi moventi, cioè adoro Ebbene sì perché oggi come avrete ben capito ritorniamo sul capitolo Hello Kitty Cioè raga quest'anno Hello Kitty ha avuto un successone in edicola Prima con la Sbabam e in questo caso con una super mega nuova collezione di figurine Panini e io già adoro Cioè raga questo è lo starter kit ed è già copertina Tanta 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 roba Ebbene sì, oggi è anche proprio la giornata ideale per metterci a incollare tutte queste figurine che mi ha mandato la Panini E io ringrazio veramente tantissimo Piove, dilughe, cioè proprio ottobre pieno Quindi oggi metterò sul calore del mio divano, anzi del mio nuovo puff a incollare figurine Arrabbiarmi perché ci saranno sicuramente dei doppioni eccetera 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 Ma prima di cominciare se ancora non l'avete fatto mi raccomando lasciatemi un bel like a questo video Se siete nuovi e volete far parte anche voi della Magica Suri Family iscrivetevi in tantissimi al mio canale YouTube E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network ovvero Instagram, la mia pagina Facebook e il mio profilo TikTok Ed è proprio di Instagram, che ovviamente ritorno su questo capitolo ogni video però veramente mi girano le scatole Che vi voglio parlare perché purtroppo per colpa di qualche invidioso, cattivo e comunque non ne voglio nemmeno parlare Perché mi sale la rabbia, mi ribolla la rabbia dentro Sono stato segnalato e di conseguenza bloccato da Instagram C'è ancora il mio profilo Però voi potete continuare comunque a followarmi, comunque a seguirmi Perciò fatelo in tanti, ci conto, diamo uno schiaffo morale in faccia a questo personaggio Facciamole vedere chi siamo, facciamo vedere la Swirl Family quanto vale E quindi niente, detto questo, prestissimo, questo caso ve l'ho già detto e ridetto mille volte Questa postation, in questa postation prenderà vita l'antro della vostra strega malefica Swirl E raga quest'anno ci metterò tutta la, veramente raga quest'anno è un anno che io Ci metterò tutta la mia energia wicca, cioè tutta la mia energia da stregona E detto questo, cominciamo Ok raga, questo qua è l'album Panini Tutto interamente dedicato ad Enlo Kitty Quello che vedete qua in mano mia è lo starter kit Che costa bensì 3,90 euro E al suo interno troverete l'album più 25 figurine Ed è, cioè raga, già la copertina mi fa impazzire Sul retro ci fa scoprire tutto questo favoloso album Cioè raga ci sono delle parti di album che sono bellissime Cioè, raga E in più la Panini, pazzi, voi siete pazzi ma vi adoro Mi ha mandato un intero box di figurine Che oltretutto una bustina costa anche, non tantissimo Costa bensì 80 centesimi l'una Allora, se vi faccio vedere quante me ne hanno mandato Sono tantissime, dovrebbero essere 50 bustine Cioè raga, raga ne ho da incollare Oggi ne ho del tempo da farmi passare con questa giornata uggiosa E questa qua, vabbè, è il pacchettino Prima però guardiamo l'album, apriamo Sono un po' incasinato però Prima di teletrasportarci nella mia poststation Vi faccio vedere un po' in generale le cose Poi mi metto all'incollaggio E sono sciubito da voi Adoro Ok raga, ci siamo Ci siamo Eccolo qua il nostro album Un album non troppo impegnativo Quindi non ci sono tante figurine da incollare al suo interno Diciamo, guardiamo Arrivano a massimo di 168 figurine Poi ci saranno quelle speciali Esattamente No, cento, cento, quanto vi dicevo Centosessantotto Anzi, centottanta figurine in totale Perché poi qua all'interno c'è una sezione speciale Dedicata alle quattro stagioni Che voi, ovviamente, è staccabile In questo caso Così E voi dovete incollare tutte le figurine Per poi creare questo poster I quadrettini dedicati alle stagioni E quindi niente Oltretutto è un album anche interattivo Dove ogni, tipo non so Ogni pagina Ha delle spiegazioni Ha delle, comunque, curiosità Eccetera E guardiamo uno dei pacchetti di figurine Da cosa è composto Ma soprattutto da quante figurine Quante figurine contiene Allora, ne contiene Una Due Tre Quattro Cinque figurine per pacchetto Ci sono quelle speciali Ci sono quelle glitterose Raga Disegni top Così Poi ci sono quelle Ovviamente Con i vari loghi Con i vari nomi Dei personaggi Della saga Sario Raga Io prima di farvelo scoprire Proprio nel dettaglio Direi di mettermi al lavoro Ancora La catena di incollaggio E poi Sono sciubito da voi Impostation Tra tre Due Uno Ok Ok raga Ci siamo Finalmente Ho finito il grande lavoro Di incollaggio Secondo voi L'avrò completato Quante figurine Mi mancheranno No raga Mi dispiace deludervi Ma non l'ho completato Non mi mancano Tantissime figurine Super giù Una quarantina Tra Questo Poster Delle quattro stagioni E l'album Queste Sono tutte Le figurine Che ho avanzato Che ho trovato Come doppioni Adesso vi faccio vedere Le quattro stagioni Questa qua Penso sia la primavera No Questo qua È un poster Così Classico E me ne manca una E poi Queste qua Sono le quattro stagioni Partiamo dalla primavera Che l'ho completata L'estate Me ne manca una L'autunno Raga Veramente Mi piace un sacco Questa scenografia E infine Anche l'inverno L'ho completato E quindi Adesso Ovviamente Non ci resta Che passare A lui Al re Indiscusso Di questo video Ovvero L'album E benvenuti Nel fantastico mondo Di Hello Kitty Ovviamente A me ne manca Già una All'inizio C'è una piccola Carta di identità Dove la presentano Kitty White È nata Il primo novembre Oddio Tra un po' Il suo compleanno A Londra Vive Oh my god Vive a Londra Parola preferita Amicizia Cibo preferito La torta di mele Della sua mamma Mi piacerebbe vedere La mamma di Hello Kitty Non l'ho mai vista E da grande Farà la pianista Con lei Non ci si annoia mai Difatti Questo album Veramente Oltre ad essere Super colorato Non è Per nulla Noioso È affettuosa Divertente È piena di immaginazione Impossibile Resisterle La sua simpatia Ti conquisterà Qua ovviamente Fa vedere Delle immaginette Di Hello Kitty Tra l'altro Adoro un sacco Queste figurine Doppie Dove bisogna Comporle E A dirvi La singera verità Ne ho completate Parecchie Qua ci sono Tutti gli amici Di Hello Kitty Mi manca My Melody E Charming Kitty Però poi ci sono Bad Bats Little Twin Stars Cinema Roll Pomporin E Keropi Qua ci parla Di tutti Gli outfit Di Hello Kitty Ma riguardanti I suoi hobby O meglio Le passioni Dalla moda La danza L'astronauta La scienziata La studiosa Questo qua Non capisce bene Qua Molto probabilmente Qua C'è il logo Di Hello Kitty Con tutte varie cosine Che gli piacerebbe fare E tu In cosa vorresti Trasformarti Adoro Poi qua C'è la sezione Dedicata A My Melody Ovviamente Ci sono delle figurine Con Hello Kitty E My Melody Hello Kitty Adora i dolci Perciò ti presenta A My Melody Una bravissima Pasticcera E di dolci Si parla O meglio Di cucina E qua c'è una sezione Dedicata A tutta la nostra Hello Kitty Quoca Qua ci fa vedere Questa qua È fantastico Con tutti questi disegni Super kawaii Sul retro La nostra Hello Kitty Che sta impastando Che sta preparando Una ricettina Ve ne manca Una qua E una qua Poi La sezione Dedicata A Hello Kitty Con Keropi Che Keropi È un ranocchio Voglioso Di avventure Quindi Loro si mettono Insieme Fanno un sacco Di avventure Poi 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 Hello Kitty Studiosa O meglio Studente Essa Qua ovviamente È tutto dedicato Hello Kitty E Bad Bats Che è questo Pinguino Un po' Rocchettaro Io adoro Questa sezione È black Con questo giallo Super intenso Poi Hello Kitty Che ama Ovviamente Fare sport Qua la vediamo Nuotatrice Pallavolista Sciatrice Col nastro Eccetera Eccetera Sciatrice Bellissima Questa qua Con questo Teddy Fantastico Sezione Dedicata Ai Little Twin Stars Che io Adoro Cioè Veramente Nessuno Sa rendere L'atmosfera Più magica E sognante Del Little Twin Stars Ed Hello Kitty Li adora E qua In questo caso Ci sono anche Delle figurine Super glitterose Hello Kitty In vacanza E Una delle figurine Che mi piacciono Un sacco Sono questa qua Tipo cartolina Hello Kitty E Pampurine A proposito Di sogni Pampurine È un gran Dormiglione Anche con lui Hello Kitty Può scambiarsi Ricette di dolci Sempre di magnasi Parla Questa è la sezione Che ho adorato Più in assoluto Perché è Hello Kitty Principessa Princess Ed è l'ho Completata Raga Queste qua Metallizzate Sono bellissime Un'altra amicizia Di Hello Kitty È Charm Kitty Charmy Kitty Scusate Che io da piccolino Ho sempre pensato Che era la versione Fake di Hello Kitty Non odiatemi E come succede Nelle migliori fiabe Che Hello Kitty Può contare Su una mica Quattro zampe Poi Hello Kitty E le favole E qua Si racconta La storia Ovviamente Di Capucetto Rosso E cioè anche La nonna Guardate Adoro Capucetto Rosso E il lupo Hello Kitty E Cinema Roll E tra l'altro Stamattino Ho visto anche I cartoni animati Mi sembra O di Pampurino Non mi ricordo E infine Hello Kitty In viaggio E qua Ci parla di una Hello Kitty Viaggiatrice C'è pure il suo Passaporto Ti è piaciuto Questo viaggio Nel mondo di Hello Kitty E dei suoi amici A me Un sacco E adesso Ritorniamo a noi Per i saluti Finali E rieccoci qua Su il family Dopo aver fatto Questa super Mega lavorata Di incollaggio Io spero che Questo video E soprattutto Questa novità Vi sia piaciuta È una bellissima Collezione Dirvi la sincera verità Che va bene Sia per grandi Che piccini Sì perché Raga Noi grandi Hello Kitty La adoriamo Cioè È la gattina Dagli anni 90 Per antonomasia Esatto Comunque Se questo video Vi è piaciuto Mi raccomando Lasciatemi Un bel like Se siete nuovi Se siete nuovi E volete far parte Anche voi Del magico mondo Della Swill Family Iscrivetevi in tantissimo Il mio canale YouTube E inoltre vi aspetto Anche su tutti i miei Social network Ovvero Instagram La mia pagina Facebook E il mio profilo TikTok Io per adesso Vi mando Un super mega Baccione Puccioso A tutti E noi ci vediamo domani Con un altro E fantastico Video Ciao